Beccato sul lavoro senza Green Pass, multa salata per il titolare del bar. I finanzieri di Orbetello, nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione anti-Covid, coordinate dal Comando Provinciale di Grosseto delle Fiamme Gialle, hanno trovato il titolare di un bar di Orbetello sul posto di lavoro privo del Green Pass. L'uomo è stato sanzionato per la violazione del Decreto 52 del 2021 con una multa da 600 a 1.500 euro. Quella delle Fiamme Gialle è un'attività intensa che sta scandagliando tutta la provincia per verificare il corretto adempimento agli obblighi previsti dalle recenti disposizioni. I controlli si svolgono contestualmente alle specifiche attività di polizia economico-finanziaria del corpo e di controllo economico del territorio e in questo contesto, dall'inizio del mese di dicembre, in tutta la provincia sono stati controllati oltre 110 esercizi commerciali e 390 persone, 8 le sanzioni combinate. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, stante il periodo di festività nel quale molta gente si riverserà all'interno delle attività commerciali.